Questa è l'ultima parte, questa addirittura targata a Roma, targata a Roma Una serie di sfilza di corvette, una diversa dall'altra, una più bella dell'altra E tutte stink ray, diverse colori Questo è sempre l'otto, vediamo adesso qua Oh, here we go Questa dovrebbe essere una ponte, anche Franz Hemm Transamerica, vediamo Organizzazione impeccabile E questa Toyota si è infiltrata Corvette Vediamo se stiamo unì In diretta, bravo Prima la rossa, poi la gialla Partito è over Come potete vedere tutti gli autisti sono di una certa età Nessun giovane Anche la signora, bella bella Eccoci qua Questa è tutta la gioventù di Naples Questa è la più alta concentrazione di supercar e di milionari americani Che hanno tutti la loro residenza qui a Naples Tutti i executive producer d'America, i CEO Sono tutti qua a Naples con la loro casa, villa, mansion Che Dio si voglia Questa non è sicuramente Euro 6 o Euro 10 Abbiamo anche le Porsche Ok Questa l'abbiamo già vista stamattina La Steam Martini Questa è una Porsche Martini Rally Qui abbiamo la pescheria di Naples Qui abbiamo un frac Come va, ragazzi? Ciao E abbiamo finito Ragazzi, per quanto riguarda il Ferrari Show a Naples, Florida Si è praticamente concluso È stato un grande successo La giornata è giusta È calda Ma non è proprio soleggiata del tutto È un po' nuvola Però è importante che non abbia piovuto Che non abbia piovuto E che abbiamo chiuso il pranzo Molto positivamente Ok, adesso chiudiamo Con la Bentley Del Illinois There we go You're gonna need another 20 minutes at least There is a line Ciao Ok, ragazzi Da Naples, Florida Per quanto riguarda oggi Sabato 6 febbraio 2021 Durante il Covid Finisce qua l'avventura Ragazzi Ci sentiamo nei prossimi giorni Continuate a rimanere sintonizzati Su Planet Naples, Florida USA Per altri nuovi video Ok Ciao, ciao